Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nella seconda parte del video della nostra vacanza in campeggio. Adesso ci stiamo vestendo, stiamo vestendo il piccolo Liam perché partiremo presto per questo nostro viaggio. Questo è l'outfit che vi ho già fatto vedere nel video precedente in cui vi mostravo la valigia del piccolo. Se non l'avete visto ve lo lascio nelle schede. Ecco Liam vestito, mancano solo le scarpine che li metterò proprio però prima di partire e il cappellino là dietro, stessa cosa. Ed eccolo qui. Ho fatto i capelli a Liam, come vedete ora ha i ricci bagnati perché è normale, si devono asciugare, come potete vedere. E adesso mancano solo le scarpine e il cappello, come vi dicevo prima, e poi siamo pronti per partire. Manca ancora un'oretta. Ho preparato il latte a Liam che vi ho messo in questo liberon che vi ho fatto vedere nello scorso video perché partiremo tra poco, sono quasi le sei e mezza di sera, perciò probabilmente avrà fame, quindi durante il viaggio vi darò il latte. E quando arriveremo poi mangeremo tutti insieme, ma più tardi, quindi per spezzare un po' la fame. E lo metto qui dentro nella borsa e in questa cesta, cioè questa sacchetta apposta per il liberon per tenerlo caldo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci arrivati. Liam ha tolto il cappellino ed è ora sul letto. Allora, dormirmo in due stanze separate, ma non è un problema. Questa sarà la mia e questa sarà quella di Liam. Dormirà in una e poi lo riempirò di cuscini per non farlo cadere. E' il giorno dopo. Non ho ripreso ieri perché abbiamo fatto praticamente niente, cioè abbiamo mangiato i pasta. Vi faccio vedere Liam. Vi faccio vedere Liam. Ora stiamo per tranzare. Abbiamo messo la bavaglia. Abbiamo messo la bavaglia. E qui c'è il bicchierino con l'acqua pronto. Ecco la pasta. Ecco la pasta. Oggi passa il pomodoro, poi i carotini e là dietro c'è il pollo. Però mangiamo. Liam. A chi viene? Ciao. Ciao. Ora ci cambiamo E mettiamo questi vestitini freschi Perché fa caldo Eccoci qui Ci siamo cambiati E ora siamo pronti per la giornata Io ho cambiato anche il ciuccio Gli ho messo questo classico di caociu E ora stiamo mettendo anche i sambaletti Che sono questi, molto carini Che avete già visto nello scorso video Gli ho messo questo classico di caociu E prende un atto E prende un atto Gli ho messo questo classico di caociu E prende un atto 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 Grazie a tutti Ora Liam fa un piccolo riposino Sono quasi le 3 di pomeriggio Abbiamo mangiato e giocato E ora dorme un po' Si sta addormentando quasi Mi ha messo lo spuscino Questo è anche il letto dove ha dormito questa notte Liam si è svegliato Come potete vedere E adesso andiamo a fare il bagno in pescina Mettiamo il costumino Pronti con il costumino e le ciabattine Ok? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.